L'estensione a tutti i lavoratori dell'obbligo del Green Pass imporrà decisamente in capo all'azienda una serie di nuovi adempimenti, il rispetto delle linee guida dettate da un apposito decreto, un rapporto più complesso nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, l'effettuare delle eventuali sospensioni dell'attività lavorativa, utilizzare strumenti alternativi, applicare sanzioni. Di tutto questo parleremo nel primo appuntamento dell'aggiornamento che sarà suddiviso in due momenti didattici. Il primo ci vedrà affrontare il contratto a tempo determinato, il secondo attraverso un focus proprio sull'applicazione del Green Pass. Vi aspetto. Grazie.